buongiorno amiche ben ritrovate sul mio canale e benvenute a tutte quelle che si stanno si sono appena iscritte o che mi stanno conoscendo con questo video se mi state conoscendo con questo video io mi chiamo gabriella in arte briga bijoux realizzo per lo più bijoux ma non solo il mio canale è vario quindi troverete video di diversa tipologia anche se per la maggior parte sono incentrati sulla creazione di bijoux artigianali in tecnica su tasso video embroidery tessitura di perline wire insomma mi diverto abbastanza oggi insieme realizzeremo questi orecchini il video è in collaborazione con la bb craft che mi ha fornito questi elementi anzi se vi siete perse l'unboxing vi metto qui nelle schede e giù anche nell'info box sotto a questo video vi metto il link di quella boxing così potrete andare a vedere i materiali che mi sono stati forniti allora cos'altro dirvi ovviamente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale cliccate sulla campanella così da non perdere le notifiche e ovviamente se volete supportarmi con un like un commentino è sempre gradito il tutorial in questione di questi orecchini che ho deciso di chiamare barcellona è di facile esecuzione non è molto complicato non è sicuramente un tutorial su tasso di tecnica base però comunque secondo me si può tranquillamente con un po di pazienza realizzare se siete proprio alle primissime armi con il su tasso forse potreste trovare un pochino complicato questa parte qui centrale il resto vabbè è abbastanza semplice ho deciso di arricchire ovviamente il modulino con questi pendenti con delle bugle con dei mezzi cristallini con delle perle con questa goccia il capuchon centrale e rettangolare questo ovviamente il retro adesso andremo a realizzare il secondo come si compone il tutorial andremo per prima realizzare la parte superiore così metterò incollato e cuscito il perno che nel frattempo asciugherà e poi andremo a fare questa seconda parte vi elenco i materiali se volete ovviamente vi potete aiutare con un puntino di colla per essere tra virgolette aiutate nella insomma nell'applicazione delle piattine su tasso perché mi rendo conto che all'inizio chi ha le prime armi a qualche difficoltà ma giusto un puntino ecco non facciamo quelle cose di spennellate a google ognuno ha il proprio modo di condividere io di lavorare io condivido semplicemente il mio allora cosa ci servirà prima cosa ovviamente ho preparato come vedete qui già tutti i materiali e tutto il kit quindi partiamo dall'inizio allora filo io utilizzo il miyuki in due colori perché come vedete nella parte esterna c'è praticamente il rosso e qui praticamente dove ho cuscito la catena a strass ho utilizzato l'oro quindi questi sono i due colori che andrò a utilizzare in modo da non far vedere poi la cuscitura nella parte esterna ago utilizzo quello della tulip sempre io vi servirà un po di colla ovviamente io utilizzo oa sulit oppure la b 7 mila ci serviranno delle forbicine dopodiché passiamo alla tra virgolette alle perline ci servirà questo elemento rettangolare che come vedete io ho già incollato sopra alla base ok sopra un pezzettino di bidding foundation che ci aiuterà a cucire ci agevolerà in questo lavoro nella parte iniziale il rettangolo che vedete in vetro questa perla in vetro cieco e forata quindi veramente questo ci aiuterà anche per chi ha le prime armi poi ci servirà questo elemento che è un piccolo castone questo invece ho preso da un altro sito vi metto il link eventualmente del video in cui mostro dove ho preso questi castoncini ne ho presi di tanti colori e quindi sicuramente li utilizzerò per degli orecchini estivi e ultra colorati dopodiché ci servirà una cabochon doppio foro da 8 mm una candy ci servirà il pernetto e poi ci servirà due pezzetti di catena strass ovviamente naturalmente io ho già ritagliato la dimensione che mi serve di 7 castoni per come ho cuscito io il mio elemento ovviamente se voi non avete una candy ma avete una perlina piatta un cabochon un po più grande un po più piccolo vi regolerete poi successivamente io vi dico che con la candy con sette castoncini di questa tipologia dovreste tranquillamente farcela dopodiché serviranno cinque bugle bugle per fare la parte sottostante poi quello che vi piace per linee gocce vi servirà giusto qualche rocaille 11 0 e 15 0 sempre per il decoro sottostante penso di avervi detto tutto anche qui inseriremo delle 15 0 io penso di avervi detto tutto vi dico ah no vi devo dire le piattine di sutash ovviamente vi dico la dimensione dell'orecchino la lunghezza più o meno praticamente è intorno agli 8 cm si è proprio 8 cm vedete ovviamente con i pendenti altrimenti direi che è 5 questa parte che potrebbe anche essere realizzata in questo modo è messa all'orecchio insomma poi sta poi sempre alla vostra fantasia io questa l'ho studiata così adesso allontano un attimo queste parti e vi dico le dimensioni delle piattine il codice sconto che la bb craft riserva per tutte le iscritte al mio canale è ve lo metto qui gabriella 5 che vi farà usufruire di uno sconto di 5 dollari su un acquisto minimo di 40 la bb craft ha tantissimi prodotti per creare veramente i nostri biciù e ha un ottimo rapporto qualità prezzo trovate anche perline in vetro trovate questi elementi ovviamente io in questa collaborazione ho utilizzato questo cabochon e quindi vi parlo di questo ma sul sito trovate veramente di tutto io già mi sono ritagliata tutte le varie parti ed ho messo anche la colla all'estremità perché a me se posso lo faccio sempre proprio per evitare sfilacciamenti che poi mi fanno successivamente innervosire allora per la nostra parte centrale ok ci serviranno due piattine quindi vedete che c'è una prima parte con due piattine che salgono fine su quella oro e quella rossa queste sono di hobby perline ve l'ho mostrata anche questa in un unboxing degli acquisti e vedete che sono circa 18 cm 17 18 cm dopodiché servirà per i decor serviranno per i decori ulteriori quindi le tre piattine esterne vedete serviranno tre pezzetti di piattine del colore ovviamente che preferite io ovviamente le ho fatte un pochino degradé perché quella rossa ovviamente sarà un po più lunga della verde iniziale però regolatevi insomma tra i sette e mezzo ecco qui questa è la dimensione ve la mostro la più piccola e sette e mezzo le altre sono intorno all'otto e mezzo e dopo di che ci serviranno altre due piattine anche in questo caso una più piccina e una più grande un po più lunga che saranno quelle che dovranno andare all'esterno del nostro castoncino che sono praticamente intorno quella verde è 5 e quella rossa è più o meno 6 queste sono le dimensioni visto che mi trovo con questa cominciamo proprio da qui perché ovviamente la prima parte la facciamo la mettiamo da parte e poi proseguiamo con il seguito il video probabilmente sarà velocizzato e perché altrimenti sarebbe lunghissimo spero farò del mio meglio insomma per renderlo chiaro e niente a dopo cominciamo subito prendendo ago e filo io prendo direttamente il colore rosso mi raccomando il verso delle piattine vedete che si viene a creare una sorta di v questa la parte sinistra della nostra v è in genere per quasi tutte le piattine di sutage quella più liscia vedete non zigrinata e quindi sarà la parte che noi dovremmo vedere dell'orecchino quindi andate a sistemare le vostre due piattine in questo modo io allineo le due piattine tra le mani in questo modo e comincio a cucire la parte bassa mi raccomando quando cucite centrate sempre la scanalatura tra le piattine io adesso ho tolto un attimo il castone per praticità e poi dopo vado a cucire tutte quante le mie piattine e poi dopo vado a cucire tutte quante le mie piattine come vedete per comodità ho spostato un attimo il castone adesso lo vado a reinserire mi porto poi dopo sul retro ed esco da un piccolo puntino ed esco in prossimità del primo castone mi raccomando puntini piccoli all'esterno vedete rientro tra le piattine rientro nel forellino del castone e vado dal lato opposto sempre centrando le piattine rientro e ripasso in tutto quanto questo passaggio dopodiché vado a zig zag e mi porto nel foro superiore e vado anche nei fori superiori dell'altro castone come vedete procedo a zig zag con grandi punti all'interno e piccini all'esterno e passo anche nei fori superiore del mio castone in modo da fissarlo bene alle piattine sempre puntini ovviamente piccoli e invisibili perché questa parte va al lobo ed è a vista come vedete il nostro cassone fissato adesso prendo il pernetto e vado con una puntina di colla a fissarlo e poggiarlo sopra al nostro castone dopodiché do semplicemente qualche punti aspetto un attimino che la colla a faccia presa e dopo do qualche puntino stesso con il filo al di sopra della base così da ancorare ancora meglio il nostro perno alla base dell'orecchino quindi diciamo che vado da un lato e dall'altro formando una sorta di rete per fissarlo alla meglio e diciamo che il nostro perno è finito mettiamolo da parte e cominciamo la seconda parte allora mi sono portata avanti ed ho cuscito con il filo un paio di punti vedete il nostro elemento la nostra tela di vetro cieca al di sopra della mia beading foundation vado a prendere la mia prima piattina cerco in questo modo individuo il centro e vado a posizionarlo in questo modo la beading foundation in questo caso ci sarà di aiuto perché comunque ci agevolerà a far sì che la piattina non scivoli tenete ben stretto io ovviamente esco ero mi sono portata già dietro perché era andata a cucire il mio camochon e vado a cucire la mia prima piattina o perlomeno la fisso per bene vado poi anche all'interno del mio elemento in vetro visto che è fuori di sfrutto e quindi tiro mi raccomando da questo lato in modo da non far creare degli spazi troppo vuoti da questo lato dopodiché ritorno e vado in basso e vado a cucire pian piano tutto il mio contorno se volete potete aiutarvi anche con una piccola mollettina per tenere ferma questa parte però diciamo che se procedete in questo modo non non dovreste avere problemi quindi vado in questo modo e vado a dare tutti i punti del mio contorno ovviamente qui non sto tanto a guardare punti piccoli punti grandi perché dopo dovrò andarci con la piattina nella parte superiore dovrà andarci ad apporre la piattina di colore rosso quindi posso tranquillamente cucire certo stando sempre attenta attenta scusate a non far creare guglie o difetti nella mia parte davanti quindi spuntate sempre al centro però la lunghezza del punto vedete due punti anche un po più larghi non ha importanza quindi cucite tutto il vostro contorno e andate poi a dare un puntino di chiusura qui per chi ha un po di difficoltà qualche puntino di colla e poi mette la piattina quando siamo arrivati ovviamente al centro non dobbiamo fare altro che tenere in questo modo chiuso e andare a dare qualche puntino per chiudere qui al centro mi raccomando cercate di essere abbastanza precisi precise insomma e centrarlo sembrano sciocchezze ma vi assicuro che a volte bastano pochi millimetri per far diventare il lavoro storto e otticamente non il massimo prendiamo poi la nostra seconda piattina di colore rosso e andiamo a cucirla sopra a quella di colore oro vado a fissare tutto il contorno e il centro oppure potete cucire prima bene al centro e poi tutto quanto il contorno ci vediamo a fine giro quando andate a cucire la parte centrale mi raccomando appiattite bene in questo punto e cercate insomma di far venire tutte le piattine qui al centro allineate e allo stesso livello finito andiamo a tagliare la bidding foundation in eccesso perché a questo punto non ci servirà andremo a cucire le piattine direttamente sulle piattine sottostanti allora ora date tre quattro puntini qua in mezzo perché questa parte dovrà essere ben fissa perché in realtà è la parte più ostica del nostro tra virgolette modulino perché dobbiamo andare a sistemare la nostra candy qui al centro quindi i forellini vedete devono stare su in basso e dovete andare a spingere un pochino in questo modo la vostra candy e soprattutto a metterla dritta in questo caso vi può veramente risultare d'aiuto l'utilizzo della mollettina in questo modo per regolarvi sul come sistemarla parto inserendomi da dove ho fatto il nodino e do qualche puntino con il filo rosso vedete e mi sposto un pochino in diagonale perché io devo andare ad inglobare la mia candy attraverso i forellini e quindi mi sposto vedete di qualche millimetro vedete sono qui sul lato riprendo la mia candy e vado a riposizionarla ok in questo modo come abbiamo detto prima ed adesso ovviamente per aiutarvi potreste mettere anche dietro alla candy un pezzettino di beading foundation e sicuramente vi facilitate il lavoro vado quindi in questo modo vado nella candy tengo ferme le due piattine con le dita e spunto dall'altro lato ovviamente tenderà di spostarsi e dovrete essere in questo caso un po pazienti ridiscendete attraverso la candy scendete in basso ripeto per chi ha difficoltà mettete un pezzettino di beading foundation e vi facilitate sicuramente questo lavoro poi cuscite nuovamente scusate cuscite nuovamente qui dopodiché vi spostate dall'altro lato e fate la stessa identica cosa quindi ripassate qui e ripassate qui e ripetere un po' di 밀ersa e ripetere un po' di là vedete che la nostra candy è fissata al centro adesso perché sono ripassato un po di volte mi porto ovviamente a dare nuovamente a risalire nella parte superiore e chiudere qui al centro mi raccomando le cuciture sempre a centro ovviamente voi qui le vedete gialle perché dobbiamo metterci il resto però vedete che nella lavorazione russa la cucitura dei puntini che ho dato anche per le candy non si deve assolutamente vedere anche se ci andrà la catena strass superiormente però è meglio che non si vedano fili che spuntano da questo lato ok sono arrivata qui in questo punto e adesso devo unire le mie quattro piattine una volta che abbiamo fatto un bel po di passaggi qui al centro andiamo semplicemente a cucire due piccoli riccioletti in questo modo senza inserire nulla sia da un lato quindi vado sono veramente piccoli 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 quindi giusto un puntino per fissare e vado anche a fissare sul davanti inserendomi in diagonale in questo modo sempre cercando ovviamente di individuare la piattina la scanalatura della piattina quindi vado da questo lato faccio un puntino controllo il lavoro secondo bene dopo di che taglio questa piattina vedete e faccio la stessa cosa anche dall'altro lato vado dopo aver effettuato i ricciolini anche ad inserire le 15 0 ai due estremi della candy andiamo a prendere i nostri castoncini per facilitare il lavoro andiamo a prendere un pochino di colla e uno stuzzitino così ci aiutiamo in questa operazione che non è complicata però mi rendo conto che per chi ha le prime armi e non solo è un po' rompiscatolina quindi diciamo che cerchiamo vi do questo consiglio per facilitarvi il lavoro anche se in realtà potreste posizionarla in questo modo ed andarla a cucire però se mettiamo un puntino di colla in questo caso io sto utilizzando la sulit e vedete la vado a mettere qui nella parte retro con uno stuzzichino ma do veramente è pochissima giusto spero che sto riprendendo qualcosa spero di sì è veramente invisibile perché tanto poi andremo a cucire e andiamo ad agiare in questo modo la nostra catena strass secondo me non ne ho messo proprio di colla comunque vabbè poca 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 in questo modo ed andiamo poi a prendere ecco infatti non l'ho messa proprio andiamo a prendere il nostro filo color oro allora come procedo? semplicemente entro all'interno delle mie piattine e spunto nello spazio tra i due castoni io praticamente di colla non ne ho messa e entro all'interno dei miei castoni e cucio vedete il mio castone si va a avvicinare ovviamente potrei fare anche all'inverso cioè potrei andare da dietro pizzicare vedete la mia piattina andare nello spazio tra i due castoni col filo in questo modo ed entrare nella piattina in questo modo quindi sta a voi a come mi raccomando non non cuciite il dito dietro quindi sta a voi e alla vostra comodità vedete? quindi come vi trovate meglio così fate come vedete io di colla non ho messo praticamente nulla voi mettete un po' di più io tanto trovo agevole cucire e quello che mi piace di più come metodo è di pizzicare il retro della piattina di passare attraverso il castone e poi andare al centro della scanalatura questo è il metodo che io preferisco ok quindi fate questo passaggio per tutti quanti i vostri castoncini e poi fatelo ovviamente dall'altro lato allora abbiamo cucito anche l'altro lato della catena strass mettiamo un pochino di colla e adesso semplicemente ragazze non vi starò a fare tutti quanti i passaggi perché in realtà sono di una semplicità infinita dovrete andare a porre nell'ordine ok le varie pattine le varie piattine prima quella verde più cangiante diciamo poi quella verde più scura e poi la rossa ovviamente individuate tutti quanti i versi e poi semplicemente andate a metterli in questo modo quindi andrete a cucire ed a fissare dietro la nostra parte non vi mostro questo passaggio perché veramente è semplicemente un cucire ovviamente quando andrete ad adagiare la piattina nella parte ovviamente che deve andare dietro si discosterà un pochino dalla parte davanti davanti ovviamente no qui sono tutti allineate qua deve andare sul retro e quindi farà questa sorta di curvatura e di seguito poi tutte le altre andate a cucire allora come vedete abbiamo fatto cuscito tutto quanto bloccato in questa parte tutto quanto insieme come vedete i puntini sono veramente impercettibili quindi perché questo ovviamente è l'altro nostro esterno dell'orecchino e quindi deve essere poco visibile adesso diciamo che l'orecchino è quasi finito dovremo andare ad incollare questa parte e poi a cucire e dobbiamo andare a fare le nostre frange quindi prendo i miei elementi ovviamente e il filo cambio nuovamente filo in questo caso oro perché dobbiamo andare a cucire le nostre frange vi consiglio di cucire una frangia per volta e di fare un nodino in modo tale che se si dovesse rompere una frangia insomma non si sfila tutto quanto l'orecchino quindi vi consiglio di partire da quella centrale in modo tale da avere il lavoro centrato partiamo da quella centrale poi metterò il video velocizzato insomma e tanto il modo di cucire le frange è sempre lo stesso spostatevi sul retro e centrate ovviamente il lavoro beccate la scanalatura fate prima ovviamente un puntino di ancoraggio quindi vedete che vado avanti e dietro e poi rispunto nella mezzeria spero di essere spuntata nella mezzeria mi pare di sì ovviamente controllate di volta in volta vado a mettere sull'aco la sequenza di una 11 0 una bugle un mezzo cristallo di questi piccini piccini poi vabbè metterete quello che insomma più vi piace io vi dico quello che sto inserendo un'altra 11 0 un altro mezzo cristallo nuovamente una 11 0 una goccia questa non è propriamente una goccia ma è uscito da un kit preso non mi ricordo neanche io quando di quelli tutti colorati creativi dove c'era un mix e dopodiché vado a bloccare nella parte sottostante inserendo una 15 0 ovviamente dovete valutare il foro della perla che state utilizzando perché se è grosso la 15 0 potrebbe rientrare a me blocca e quindi la vado a utilizzare quindi va bene posso riuscirci ok questa è la sequenza salto la 15 e rientro in tutte quante le altre perline con un pochino d'attenzione io ovviamente con la camera davanti ho sempre tanta difficoltà ma posso farcela quindi rientro e vado qui tirate in questo modo e ripassate fate un nodino e andate fate un nodino per bloccare nel caso di si sfilasse e dopodiché passate alla seconda frangia ok come vedete abbiamo realizzato anche le frange dall'altro lato in modo speculare ed adesso non ci resta che andare a mettere quest'ultima parte taglio un pochino di codina vedete di sutash in eccesso e vado a mettere un pochino di colla scusate la pulicamera un pochino pochino qui al centro e poi andrò a cucire per stare super 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 sicuri quindi adagiate i due elementi andate ovviamente ad osservare l'altro più o meno come lo avete posizionato ed aspettate che la colla faccia un pochino presa dopodiché andate a dare qualche puntino trasversale per unire le due parti in questo modo vado a fissare sia da questo lato che da questo lato ma potrete anche prendere il filo rosso in questo caso e spuntare qui al centro in questo modo ora non faccio il cambio filo in questo modo ed andare a cucire quindi le due parti insieme e dopo che siete andate a cucire ben benino date ovviamente l'ultimo puntino per chiudere tutto quanto il lavoro e finalmente finalmente il nostro orecchino barcellona è finito vedete che ben fissato ho dato parecchi punti sia qui su e qui nei laterali che attraverso non ci resta poi che controllare che i nostri orecchini siano uguali che abbiano la stessa lunghezza la stessa grandezza direi proprio di sì e niente ragazze io il tutorial è finito spero che vi sia piaciuto questi sono i miei orecchini barcellona spero di vederne qualche versione mi farebbe molto piacere naturalmente c'è da fare tutto il retro vi metto giù un tutorial di come fare i retro perché altrimenti questo video questo tutorial durerebbe veramente un'ora quindi spero che vi sia piaciuto lasciatemi un like condividete e vi ricordo il codice sconto per la baby craft gabriella 5 ve lo scrivo anche qui in sovraimpressione e niente ragazzi vi abbraccio e vi auguro come sempre buona creatività al prossimo video ciao ciao